Benvenuti o bentornati nel canale. Questo è lo Zino Mini Pro R, ovvero ridefinito. Ringrazio Carlo dell'assistenza Absan Italia di avermelo mandato per provarlo, per testarlo. Io ho aspettato un po' di tempo perché aspettavo che arrivasse la batteria alleggerita, che doveva arrivare dopo l'uscita ovviamente di questo drone e questa batteria in Europa, ma ahimè purtroppo Absan non ha messo mano, almeno al momento, a questa cosa, dunque non è in commercio e vi racconto però tutto perché l'ho provato, vi dirò delle osile interessanti, ma prima vi chiedo un like e che dire, un'iscrizione al canale se non siete iscritti. Si inizia! Senza dubbio la linea di questo drone, che ormai sono un po' di mesi uscito, si parla di fine anno scorso, è molto interessante, completamente nero, con un bel motivo sulla scocca, una batteria grigia qua sotto e sotto il drone vedete una griglia protettiva molto molto più grande del precedente Zino Mini Pro che addirittura appoggiando su un piano è più alto delle gambe stesse del drone e dunque appoggia proprio su di lei quando andiamo a farlo partire. Una griglia che è removibile in modo semplice nel caso non si voglia tenere applicata sul drone stesso. Vi assicuro che questo drone è davvero carinissimo, è carinissimo come del resto, è carinissimo il radiocomando che ora vedremo, è molto molto bello e ovvio la scocca del drone e la radio sono le stesse del precedente Zino Mini Pro ma si migliora una su tutte e il miglioramento nei sensori di collisione nei quali non è più necessario fare tutta una procedura di calibrazione spesso quasi impossibile ma obbligatoria ovviamente dopo ogni aggiornamento firmware con lo Zino Mini Pro. Adesso tutto si autoconfigura e non si deve fare assolutamente niente. Diciamo che poi oltre a questo migliora anche la connessione. Siamo alla Sinclair 4.0 che offre più sicurezza ovviamente durante il volo. Lui ha un gimbal di quarta generazione con una nuova tecnologia che ne migliora sensibilmente la stabilizzazione. L'ho provato e ha dei risultati davvero ottimi. Anche se ha un difetto enorme che molti di voi sanno e ne parleremo ovviamente per questo che è un drone che non è decollato in Europa. Ovviamente la seconda generazione dell'evitamento ostacoli visivi 2.0 va a migliorare la capacità di autocorrezione dell'intero sistema visivo e va a migliorare anche la stabilità dell'evitamento stesso di ostacoli attraverso una, loro dicono, una fusione dinamica dei dati multicanali. Con ATVT 3.5 riesce a fare anche un follo notturno e anche un follo parallelo in orbito anche frontale oppure anche da dietro e va sicuro che funziona anche con po' la luce. È davvero, davvero sorprendente. Beh, che dire, una nuova tecnologia di controllo del volo di quarta generazione che va a migliorare ulteriormente l'apprendimento e l'adattabilità alle interferenze che trova nell'ambiente circostante e in particolare ha la capacità di andare a correggere gli errori dei dati GPS e questo migliora notevolmente la stabilità in volo in ambienti dove ci sono delle complesse zone, aree tipo di campi elettromagnetici. Insomma, è tutto molto bello, ma come si sa purtroppo si viene al dunque e il drone loro dichiarano che pesa 254 grammi, dichiarati da loro, ma purtroppo non bastano. Cioè, questo pesa addirittura di più e di conseguenza lui, cos'è, non è un drone purtroppo inoffensivo e per condurlo è necessario, obbligatoriamente, nonostante sembri un dronettino da 250 grammi, 249, ci vuole un attestato a 1 a 3 perché supera la soglia di 249 grammi. Ma perché 5 grammi in più, diciamo? Cioè, questa cosa, cioè, è incomprensibile. Cioè, Absan, questa cosa è incomprensibile. Un mio amico mi diceva, tu hai fatto un fiore e tu ci hai cagato sopra. Ecco, è proprio il suo. Absan, tu hai fatto un fiore e tu ci hai cagato sopra. Questa è proprio la verità, perché questo è un gioiellino, ve lo assicuro, ma purtroppo, ragazzi, è un gioiellino che è mozzato proprio. Ragazzi, non so, questo poteva essere uno dei droni più indovinati della Absan, ma per un pugno di grammi non è un drone inoffensivo e di conseguenza per guidarlo, mi vi ho detto, occorre un attestato a 1 a 3 e di conseguenza cambia tutto. Un vero peccato perché questo si mette all'astreno ad un Air 2, per esempio. Cioè, si vola come se si avesse un Air 2. Questa è la situazione. Ovviamente arrivi il camion, la macchina, il corteo, la fanfara e tutto il resto. Vado a me va piano, guarda, a me va piano, cioè, fa bene perché mi impolvera e lo sanno che i bighe lo possano un polvera. Però, vado a me ride, vado a me. Comunque, dicevo, purtroppo è così. Quello che vi devo e vi voglio dire è assolutamente questo, prima di concludere questo video avete visto delle immagini, l'avete visto in volo, ve l'ho fatto vedere, guardate, questo è il radiocomando. Quello che vi voglio dire è che, parlando con Carlo, mi ha aggiornato quando mi ha inviato il drone per testarlo. L'Absan sta per mettere in commercio alcuni modelli, non era nemmeno lui ancora bene in grado di sapere che cosa, io dalle voci di corridoio che ho, che non mi ha confermato Carlo perché non c'è ancora la certezza, ma sembra che entro tutto il, prima sembrava agosto, ma entro tutto il 2023 arriverà un nuovo drone totalmente diverso da lui, 249 grammi veri, che si guiderà con la app che già è presente sullo store, io se potete andare a vedere, che si chiama Absan 3, è già presente nello store, ancora ovviamente non ci sono i nuovi droni, ma il nuovo 250 grammi della 249 dell'Absan si guiderà proprio con questa nuova app, Absan 3, che è già disponibile nello store e sta aggiornata, ho visto addirittura un giorno fa. Dunque ragazzi, vi rimando a nuovi video nel canale, vi ho portato, mi ha fatto piacere provarlo, testarlo, raccontarvelo, un drone di fatto per chi non ha un patentino inutile, un drone magari per chi ha un'attestata 1A3 è anche utile per chi ha una bella ottima, vola davvero bene, ha un buon sistema di evitamenti ostacoli, ma soprattutto la batteria dura veramente 40 minuti, perché io con questa batteria ho volato e mi sono stancao di volare. Dunque ragazzi, ci si vede alla prossima con droni nella vigna, ciao, un abbraccio come sempre dai vostri video.